Il nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarmi. Lasciamoci introdurre alla meditazione dei misteri del dolore da questa scultura di Michelangelo, una delle opere più famose del mondo. Pensate, era destinata alla tomba di un cardinale francese. Quando venne commissionata quest'opera, Michelangelo a cavallo partì da Roma per andare a Carrara a scegliere un blocco bianco. Poi si mise all'opera. Quando l'opera venne compiuta e venne presentata al pubblico, era così bella che alla fine è diventato, si può dire, il bene più prezioso della Basilica di San Pietro. Ma quando venne esposta, alcuni che non sapevano che l'aveva fatta, fecero un nome, l'ha fatta un certo solare di Milano. Michelangelo si stizzì. La notte, con la lanterna, andò e incise il nome, l'unica opera firmata, Michelangelo Florentinus Faccebat. Ebbene, in quest'opera straordinaria, Michelangelo è riuscito a fondere due sentimenti che sembrerebbe impossibile mettere insieme. Si vede il sentimento del dolore, è chiaro in questo volto. È il volto di una mamma che tiene il figlio crocifisso sulle braccia, quindi è chiaro. Ma è un volto sereno. Sembra che la Madonna aspetti la scintilla della risurrezione. Con questo sentimento di dolore, ma anche di speranza, entriamo nella meditazione dei misteri del dolore. Il primo mistero ci porta nell'orto degli olivi. Gesù prega, soffre, al punto tale che gli scoppiano le vene per la pressione. Comincia a sudare sangue. Perché? Perché Gesù ha preso i nostri peccati sulle sue spalle, ma non come un sacco che sta dietro. Si è immerso, immerso nel fango, provando sicuramente un orrore, un disgusto che non riusciamo neanche ad immaginare. E l'ha fatto per puro amore. Quindi la storia della passione è una storia di amore, non c'è altra spiegazione. Padre nostro che se ne scegli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Ave o Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione, di Maria Immacolata e di tutti i Santi, concedi, Signore, Santi Genitori, Santi Vescovi, Sacerdoti e Diacoli, ferventi religiosi, religiose e missionari, alla tua Chiesa. Il secondo mistero del dolore, ci venti davanti una scena orribile, impressionante, Gesù che viene fragellato, e i fragelli avevano la punta che era un piccolo aculeo, quindi strappava la carne. Quello che dovete soffrire Gesù è inimmaginabile, poteva fulminare i fragellatori. Non l'ha fatto. Perché? Per amore. Questo è il filo conduttore di tutta la passione di Gesù, Padre nostro. Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venne al tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo segno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo segno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo segno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo segno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo segno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo segno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo segno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo segno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo segno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo segno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in centro tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando, perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i Santi, concedi, Signore, Santi Genitori, Santi Vescovi, Sacerdoti e Diacoli, ferventi religiosi, religiose e missionari, alla tua Chiesa. Il terzo mistero del dolore ci presenta Gesù che venne coronato di spine. Non immaginiamo una corona elegante come quelle che si vedono nelle riproduzioni. Era un fascio di sterpi, presso lì probabilmente da un angolo del pretorio e messo sulla testa con grande disprezzo. Pensate, quelle corone fecero soffrire Gesù, ma più che altro rappresentavano i peccati umani. Noi possiamo togliere una spina della corona di Gesù. Ogni volta che compiamo un gesto di umiltà, togliamo una spina. Ogni volta che compiamo un gesto di perdono, togliamo una spina. Ogni volta che compiamo un gesto di generosità vera, sincera, togliamo una spina. Lo possiamo far tutti, ogni giorno impegniamoci a togliere una spina dalla corona di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga al tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. D'acce oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri dediti, come anche noi li rimettiamo ai nostri creditori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservasi dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando, perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per l'intercessione di Maria Immacolata e di tutti i Santi, Concedi, Signore, Santi Genitori, Santi Vescovi, Sacerdoti e Diaconi, Ferventi religiosi, religiose e missionari, alla tua Chiesa. Il quarto mistero del dolore ci presenta Gesù che viene caricato del pesante legno della croce, un legno che pesava, come pesano i peccati. Gesù durante il tragitto cade più volte, è stanco, è spossato. Chiamano addirittura un contadino, un contadino di passaggio, un contadino di cirene. Quest'uomo aiuta Gesù a portare la croce. Guardate che anche noi possiamo prendere il posto di questo contadino. Possiamo anche noi aiutare Gesù a portare la croce. Perché ha detto, qualunque cosa avrete fatto al più piccolo dei vostri fratelli, voi l'avete fatta a me. Quanto sono belle queste parole. Colpirono tanto Mare Teresa di Calcutta e furono il programma ispiratore di tutta la sua vita. Padre nostro. Che sei in cielo, sia santificato il tuo nome. Venga nel cuore, sia fatta la tua volontà. Come il cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Glorie al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservati dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le aline, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando, perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i Santi, concedi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, perventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il quinto mistero del dolore è un invito a posare lo sguardo sul crocifisso. Pensate che inizialmente il crocifisso scandalizzava e scandalizza ancora oggi chi non capisce o non crede che Dio è amore. E il crocifisso è la massima manifestazione di Dio amore. San Paolo è arrivato a dire Cristo mi ha amato e ha dato a se stesso per me. Cioè si è lasciato crocifiggere per me. Lo può dire ciascuno di noi. Cristo è pronto a dare la vita per ciascuno di noi. Questo è l'amore infinito di Dio. Cristo mi ha amato e ha dato la vita per me. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli anni. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando, perdono, per quelli che non credono, non adorano, non spero e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i Santi, concedi, Signore, Santi Genitori, Santi Vescovi, Sacerdoti e Diacoli, ferventi religiosi, religiose e missionari, alla Tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza, nostra salve. A Te ricordiamo, noi esuli, figli di Eva. A Te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa vale di lacrima. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi Tuoi misericordiosi e mostraci, dopo quest'esilio, Gesù, frutto benedetto del Tuo Seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, Signore, pietà, Cristo, pietà, Cristo, pietà, Signore, pietà, Cristo, ascoltaci, Cristo, esaudiscici, Padre Celeste, che sei Dio, Figlio Redentore del mondo, che sei Dio, Spirito Santo Amore, che sei Dio, a pic었어요, santa trinità, unico Dio, a pic intensive, santa Maria, prega per noi, santa madre di Dio, prega per noi, santa vergine delle vergini, prega per noi, madre di Cristo, prega per noi, madre della Chiesa, prega per noi, madre della misericordia, prega per noi, madre della divina grazia, prega per noi, madre della fiducia, prega per noi, madre purissima, Madre sempre Vergine, Madre Immacolata, Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore, Madre di Misericordia, Vergine Prudentissima, Vergine degna di onore, Vergine Potente, Vergine Clemente, Vergine Fedele, Prego, Specchio della Santità Divina, Prego, Sene della Sapienza, Prego, Causa della Nostra Gioia, Prego, Tempio dello Spirito Santo, Prego, Arca dell'Alleanza, Prego, Porta del Cielo, Prego, Stella del Mattino, Prego, Salute degli Infermi, Prego, Rifugio dei Peccatori, Prego, Conforto dei Migranti, Prego, Consolatrice degli Afflitti, Prego, Aiuto dei Cristiani, Prego, Regina degli Angeli, Prego, Regina dei Patriarchi, Prego, Regina dei Profeti, Prego, Regina degli Apostoli, Prego, Regina dei Martiri, Prego, Regina dei Confessori della Fede, Prego, Regina delle Vergini, Prego, Regina di tutti i Santi, Prego, Regina concepita senza peccato originale, Prego, Regina assunta in cielo, Prego, Regina del Santo Rosario, Prego, Regina della Famiglia, Prego, Regina della Pace, Prego, Regina una uretana, Prego, Agnelo di Dio, Che togli i peccati del mondo, Prego, Agnelo di Dio, Che togli i peccati del mondo, Prego, Regina di noi, riempiendolo di amore. Tu hai camminato sulle orme di Gesù e non ti sei fermata quando hai visto che andavano verso la croce. Tu hai creduto che Dio è amore. Tu hai creduto che l'amore è onnipotente. Tu hai creduto che la bontà, quando è crocifissa, vince e risorge. O Madre, tu ora pensi a noi e soffri per noi. Tu ora desideri che nasca in noi il tuo Figlio Gesù. Aiutaci, Madre, perché noi siamo deboli nella fede. Prendici per mano e guidaci sulla via del Vangelo per far fiorire di speranza ogni dolore e per cantare il Magnificat con i piccoli e gli umili sofferenti di tutta la terra, nell'attesa del grande giorno della festa, la festa del cielo che verrà. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. E nel nome del Signore. Vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Quando vedete accanto a voi una persona che soffre, che porta la croce, sappiate che Gesù vi aspetta lì perché lo aiutiate come il Cileneo. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Dio 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 Dio